Non me ne voglia Catello, non è il mio ruolo fare le domande, non possiamo accettare, sono inaccettabili le scene di violenza alla consegna delle liste, questo sento l'esigenza di dirlo in questa sede, com'è inaccettabile l'idea dell'ingovernabilità, alla quale una coalizione come Canaro Manfredi consegna la città. Perché quando sento che poi in quella coalizione, che è una coalizione che ha la bandiera della discontinuità, poi c'è l'iprogesia di tante figure che rispetto, che stimo, sono state i miei compagni di viaggio, candidata all'interno di quell'opzione e poi ci sono delle liste che vengono da Forza Italia, come la guida della prima municipalità, ecco abbiamo un mappazzone politico che destina la città all'ingovernabilità.